Probabilmente molti di voi sanno del referendum che c'è stato nel Regno Unito, ha vinto l'uscita dall'Unione Europea, in quanto c'è stato il 52% di voti favorevoli, così ho letto in internet, questo risultato mi sorprende, perché non me l'aspettavo, però mi piace, per motivi che spiegherò fra poco, tra l'altro ho notato che in Scozia e nell'Irlanda del Nord c'è tanta gente che voleva rimanere nell'Unione Europea, eh, io ho trovato pure una mappa, ora non so se riesco a trovarla di nuovo, eh, vabbè, cercherò la mappa dopo, comunque andiamo avanti. Ricordate il referendum per l'indipendenza della Scozia? Eh, probabilmente ce ne sarà un altro, e probabilmente questa volta vincerà l'indipendenza, poi un referendum analogo potrebbe svolgersi nel Galles e anche nell'Irlanda del Nord, insomma, e poi il resto si verrà, comunque, cosa succederà nel Regno Unito e nel resto l'Europa? Allora, per quello che so, il Regno Unito non aderisce al Trattato di Schengen, mentre alcuni stati fuori dall'Unione Europea aderiscono al Trattato di Schengen, il Regno Unito no. Cosa significa questo? Noi italiani, per andare nel Regno Unito, avremo bisogno del passaporto? È una delle tante domande che vengono spontanee. E poi che altro c'è? Eh, poi se noi avremo bisogno del passaporto per andare nel Regno Unito, ovviamente anche i cittadini del Regno Unito avranno bisogno del passaporto per andare in altri stati d'Europa, comunque io spero di no. Io spero che ancora sia sufficiente la carta d'identità. non ho intenzione di andare nel Regno Unito, ma c'è gente che ci va e quindi spero che almeno resti la possibilità di andare nel Regno Unito senza passaporto. Cos'altro posso dire? Eh, allora, il risultato del referendum mi piace, perché... l'Unione Europea mi sa di quarto impero tedesco. Prima dell'Unione Europea ci sono stati tre imperi tedeschi, il Sacro Romano Impero, l'impero di Otto von Bismarck, la Germania nazista, e mo' c'è l'Unione Europea, dove tante cose vengono decise dal governo tedesco, a scapito degli altri governi. Infatti, l'Unione Europea, per come funziona ora, è fatta male, secondo me. Secondo me, hanno fatto bene nel Regno Unito a votare per l'uscita. Tra l'altro, l'Unione Europea poteva essere un'occasione per fare seri cambiamenti. in Italia ci sono varie basi militari statunitensi, probabilmente anche in altri stati d'Europa. L'Unione Europea poteva essere un'ottima occasione per chiudere tutte le basi statunitensi. Gli stati dell'Unione Europea tutti insieme potevano uscire dalla Nato senza problemi. Poi, vabbè, può darsi che il governo statunitense imponeva un embargo come quello che ha imposto a Cuba. Vabbè, comunque l'Unione Europea è grande e quindi secondo me, ha le risorse sufficienti per andare avanti senza problemi. In più, in questo modo, l'Unione Europea poteva commerciare anche con Cuba con grossi vantaggi per l'Europa e per Cuba. ho anche alcune cose da dire sul Regno Unito, cioè voglio spiegare cosa non mi piace del Regno Unito. Allora, il Regno Unito ha rifiutato la moneta europea e vabbè. l'hanno fatto anche la Svezia e la Danimarca e vabbè, pazienza. Poi, si è visto quello che ha fatto l'Euro nei vari stati e infatti io sono per l'uscita dell'Italia dall'Euro perché l'Euro sta dando grossi problemi a vari stati e quindi, vabbè, pazienza. Però, ecco, c'è un'altra cosa. La Gran Bretagna per anni ha rifiutato le unità di misura internazionali perché c'è, allora cos'ha la Gran Bretagna di europeo? Andiamo avanti. Ecco, a me era un po' fastidio che le scuole italiane insegnano l'inglese. Eh, tanta gente dice che l'inglese è internazionale. Ma come possiamo considerare internazionale una lingua parlata in stati che per anni hanno rifiutato le unità di misura internazionali? Tornerò su questo argomento in altri video. Comunque, per ora basta così. Grazie per l'attenzione.